L'ospedale di Castiglione è un punto di riferimento per tutta la costiera amalfitana, quindi per un territorio che per sua natura ha un certo tipo di estensione, dove le distanze non sono uguali a qualsiasi altro posto, ma sono veramente difficili da percorrere. Ora, con la decisione di questa delibera, quello che succede è che questa organizzazione che aveva dato i suoi frutti in un posto dove davvero è difficile avere accesso alle cure e soprattutto al primo soccorso, avrà una nuova organizzazione e farà riferimento a nuovi ospedali che saranno quello di Nocera Inferiore e di quelli collegati. Capisco la priorità di dover riorganizzare i plessi per il Covid, è vero che anche bisogna tutelare tutti quegli altri servizi che vanno garantiti comunque. Il fatto che il nuovo ospedale di riferimento sia quello di Nocera e quelli collegati ad esso determinerebbe per gli abitanti della costiera un allontanamento dall'ospedale di riferimento, il che vuol dire allungare i tempi di percorrenza per i soccorsi e anche dei disagi per l'altro target interessato da questo soccorso che sono i turisti. Grazie.